Si inaugura una biblioteca in una scuola, è un segnale forte, un nuovo presidio culturale in una città che ha veramente fame di cultura. Benvengono tutti i punti di aggregazione, benvengono tutti i punti dove è possibile non soltanto esprimere le proprie idee ma poter immergersi nelle idee dei grandi della storia. Quindi una biblioteca è sempre un centro di aggregazione importante per chiunque voglia crescere sia socialmente ma individualmente. Il teatro antico fa parte della nostra identità culturale, la nostra identità nasce da Atene, Roma e Gerusalemme. Questo l'ha detto il grande pontefice Benedetto XVI e ricordiamoci tutti che un popolo senza identità è destinato a soccombere ad altre identità, forse meno civili.